Ciao naso tappato. Lo so che è dura lavorare quando non respiri bene, però hai visto il parchettino? Ti ho mandato Vixinex. In un attimo sentirai che sollievo. Amore riguardati, un bacio, la tua Gabri. Vixinex libera il naso subito e per 6-8 ore. È un medicinale a base di ossi metazzolina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Evitare l'uso prolungato.